Ciao, sono Cristian Parigi e molti di voi si chiedono cosa faccio durante il giorno, me lo scrivete in mille letteri? Io la mattina mi alzo e leggo proprio le vostre lettere, le leggo una a una e rispondo a una a una con K. Faccio questo, poi normalmente mi sveglio, faccio una partita a golf, poi vado a vedere il mio tappeto elastico, mi rilasso, cerco di far partire un quad. Poi vado vicino al cimitero, guardo le macchine passare, questo è il solito, faccio sempre questo. Adesso sto lavorando alla mia ultima composizione. Io sono Cristian Parigi e questa era la mia giornata tipo.